ma guarda chi c'è chi c'è amici cari c'è chi c'è chi c'è chi c'è monitor e monitor queste citazioni solo per pochissimi belli vi avverto stasera internet fa caccare la cacca bene vi avverto che il mio pc non legge il joystick quindi dovrò usare la tastiera sarà ancora più schifoso cacchetti ciao lampiona che qui c'è un emi ciao aia ah sì sì allora intanto fatemi fare le mie cose devo avviare il gioco devo fare tutte le cose ma basta scusarà basta usare le freccette giusto e la zic che io l'ho segnati con la x e la y come va a fare la giochino io sto raggando si piango mi mi attizzi tado ti ho invitato sì 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 ora fammi cattolare il gioco bravo dieghe anche fa il moderatore del mattino il vero moderatore quando stream a luca si vede poi perché devo rimettere tutto a posto io devo prendere una caramellina perché sto perdendo la voce si sente si sente è infatti aiuto siete pronti posso partecipare partecipo 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 che ti dice che mezzo schermo ma no ok bravo risolto erano impostazioni dello schermo da coglione di luca ma dai ma siamo tutti con lo stesso personaggio tranne me e adesso se non mi soffoco con la camelia magari no e come magari ho detto magari no in ordine siamo squisi lampiona aero e io per ultimo squisi lampiona lampiona come si fa a fare tipo la slappata verso destra verso sinistra io uso x e y ma tu giochi con la tastiera lamp si come x e y c'ho solo io mi stai mai impostati tu si no vado malissimo così no cosa ho fatto ragazzi sta imparando e regala live sta andando a merda perché penso che il gatto sia sopra al router quindi voi giocate vado a controllare torno subito ma come e cosa facciamo parliamo però poverini io in un'altra in un'altra vita ero ingegnere sono sicura ed ingegnere o eri geometra come mark o ragioniere cosa che faceva mark ragioniere o geometra oddio ingegnere o geometra penso sì scusate non volevo urlare niente o forse se e anche ti ti prego ciao il sociologo ciao no più che altro non so i tasti da tastiera eh non me ne ricordo cioè i tasti della tastiera non lo so quindi ragazzi bravo Wachetti mi raccomando la pagina è qua mi raccomando ok google tasti tastiera tricky towers eh sono crollati dei tasti sono crollati dei tasti hai visto no sono crollati dei pezzi qualcosa mi dice che ho vinto io io non ho vinto i suoi ma scusa ma io non giocavo e ho fatto tutti quei punti eh chi ha fatto cosa pensa fai meglio di me Nemi ha rinnovato mamma mia mamma mia Nemi e dice sapevatelo ma noi non sapevamo Nemi grazie ti vogliamo benissimo Nemi guarda grazie grazie mi ricordo le posizioni eh squisi lampiona Airu e io Airu e io e niente cercherò di arrangiarmi come si può no cazzo ho messo storto ma queste parole lampiona scusate siamo un passo per bambini mannaggia alla puttana oh Dado oggi non te l'ho detto no oggi mio nipote mi ha chiesto di te che hai chiesto di me mi ha chiesto dove hai Dado gli devo dei soldi a mio nipote non a mia nipote com'è che uso i boost con invio no porca puttana io uso la A e la S e tu cosa hai detto lampiona io gli ho detto Dado a scuola ah e poi ha visto un un video messaggio di cerchietto e mi fa ma quello è cerchietto e lui mi fa no non può essere cerchietto caro e niente quindi ora mio nipote sa com'è fatto cerchietto ma non è molto convisto della cosa che puro aiuto aiuto nooo nooo cazzo non farlo Dado eh no perché nooo Dado perché l'hai fatta cosa è succed... niente nooo e sono morta ce l'ho fatta ha vinto ha vinto la lampione siiii dai io vi sto pian piano raggiungendo ciao Foxy ciao Fox come va Foxy io voglio i comandi per tostiera io te li ho detto i BA i BA no non sono quelli giusti eh no io li ho cambiati eh io li ho cambiati si dici tu hai che hai cambiato non penso sia ha detto Airu Airu ci scrive oggi avete un Airu zitto ma Airu non ha parlo per Lady Steam tranquillo quindi anche se scrivi non Airu parla di se stesso in terza persona si infatti non ho capito che cosa da psicopatico esatto Airu magari si vedeva che cosa ha fatto quel cretino e le cose da Airu Airu ti devo picchiare? no dai Airu non si vede si dai devo picchiare se non ci buttano giù la live vuol dire che non si è visto niente Airu ha bestemmiato? non si dice cosa ha fatto Airu eh invece l'ho detto ok ok il mio mulino con che voce ah ma c'è il vento eh si è simpisi eh scusate grazie no Balla la mia torre eh Airu ha detto che stasera ti fa per Airu eh è Giacomo Balla futurista oh 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 bravissimo non conoscete Giacomo Balla? no ho sbagliato no? no 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 era una canzone di Giacomo Balla sei un coglione ma fa troppo veloce per il mio cervello questa cosa ma perchè no? ma io mi chiedo perchè ostino a voler portare questi giochi ma guarda lì aia nulla 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 è finita basta ma perchè non mettono come per il joystick la letterina di fianco per usare il perchè è fatto di merda lampiona hai rotto le palle nooo l'ho preso male facciamo che non facciamo più trick con lampiona no no quando c'è lampiona no dai è l'unico gioco dove vincono non rompetti sai? dice Ayrou che se premi ESC ti escono i tasti anzo serio? che geniale vado io ho trattenuto il rutto della vita l'ho fatto per te bravo ma che tasti sono? non ha senso e cambiali dopo spingi il mattone U e D che senso eh? spingi il mattone spingi il mattone spingi il mattone quanto eri asmr ma io sono un mago in questa cosa nooo lampiona un mal di testo non dire ti picchio sai ancora? oggi me ne hai promesso e tante mamma mia oggi sì ma tanto quello che picchierò di più sarà comunque cerchietto sì ma Marco verrà picchiato da tutti se vuoi lo picchio per te il 2 sì grazie ok molto gentile davanti a tua ah forse posso fare una genialata forse no è impossibile no no è impossibile cioè la fisica no sono stata rincoglionata la falla è la femmina del fallo oh dio mio sento dolore la falla artesiana che insieme alla canna da zucchero era la risposta no era clima mite l'altra risposta clima mite e temperato la barbabietola da zucchero la barbabietola da zucchero e poi il turismo il turismo vero l'industria metalmeccanica no l'industria siderurgica siderurgica eh nemmi la run è OP in questo gioco no basta non ne metto più no guarda chi è l'ultimo? io io no porca patta la barbabietola da zucchero per gairo airooo comunque secondo me ha vinto l'ultimo e sono io l'ultimo ah ok no perché così chi è? ah questa la squisi ok dai va bene ma dai ma airo mi spieghi perché l'hai messo in quel modo l'airoo ma lampiona ma lampiona com'è possibile che la tua cosa regga? cazzo cazzo vedi che hai vinto mamma mia grande mamma mia ho vinto l'achievement architetto spodestala ha dato spodestala mi va a detronizzo eeeh ti piacerebbe Ayrton mi sono allenato a trattenere le madonne in questo gioco questo mi sono allenato però il resto no mamma mia la voce aiuta figurati se apro sto gioco di merda da solo guarda magia bianca ma vai non fare il mark della situazione sai che ti picchio che hai detto Arisha nooo 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 io vado in casino vado in casino? cos'è? no è Jay? ah si ok facciamo così facciamo così facciamo così facciamo così non fatelo non l'ho fatto io che carino un gioco di me ok no vabbè MJ lo capo scusi da me avete laggato quindi apposto così Jay ha detto MJ no ho detto Jay perché ho scoperto che per fare no vabbè mi distrago è difficile parlare mentre sennò che ho questo ruoco vero ma Ran com'è possibile che tu con la tastiera riesca a fare una cosa del genere? perchè sono pro perchè sei illegale eh vabbè vabbè si eccetta eccetta c'è questa roba sta in piedi ah ecco no perchè no niente ho perso no io ho perso no io ho perso no ho perso mamma mia sono fortissimo guarda che sono fortissimo bellissimo eeeh 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 ufa dai degli onesti terzi posti beh onestissimi terzi posti basta sto rompendo i capospeciali che palle eeeh io ho messo casuale giuro cazzo ma io posso metterlo lì sotto tipo nooo nooo e vabbè tocca fare questa cosa bruttissima no 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 brava squeezy brava squeezy ho attrezzato la fantasia cade tutto non è colpa mia no no quello era un dugongo durante la la stagione degli accoppiamenti comunque ora mi sto immaginando un dugongo in situazioni un po' compromesse nella stagione degli accoppiamenti si era la danza dell'accoppiamento senti quella di Zoidberg si bellissimo nooo che cazzo ragazzi ragazzi no stavolta ho proprio cannato squeezy nooo e niente sei arrivato terzo ma dado perché hai fatto queste cagate dado perché la mia vita è una menzogna ranna ma ma nulla guarda guarda dove te lo piazzo guarda 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 ha mamma che pro dove 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 ombra ma perchè li cadono ma si e niente ha vinto la squeezy si oh mio dio 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 ahchetti dove sono i miei soldi ahchetti ti ricordo che il link per donare è questo no ahchetti ahchetti scusa adesso però non vuoi donare c'è tutta la volta che me l'hai promesso eh si aero è caduto tutto cosa hai detto ayrton hai detto ayrton Dado non so riferito a quello che è probabilmente la mia performance da ritardato però non so dove 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 ombra questo per me non è dove dove ombra no perchè c'è della fisica questo è coperto dove mai sarà sicuro ho sbagliato tutto muori che è che è il primo posto ragazzi no tu no no siamo due secondi posti non esiste il primo posto aiuto no tu sei primo no io vedo un secondo posto si vede tu sei prima ragazzi ma meglio il treno thomas o l'orso berr l'orso berr io chiedo perché 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 da piccolo per ora no 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 perché sono tu sei patatino ho 21 anni non più senti stai zitto 95 ma ben chi io ne ho 21 scusa siete tutti i due piccini non è vero dei piccini patatini ampio no cosa c'è vero ci siamo capiti ecco ora che mando il piaccio fight me over this beh piccini io che sono la stancona del gruppo forse no vabbè ma vabbè io parlo di età quanto sei alta squisi 1,75 abbondante micchia anche perché se contassi lentezza non posso competere squisi che rischiare come serato non so leggere il tuo nome rispia dammi come come puter belle purse puto e che ho fatto cosa grazie anche per 1 euro 11 grazie poi ti leggo grazie grazie mille comunque poi ti leggo comunque dicevo che laghi io penso di aver mangiato una caramellina amici però io sono sono niente ci ho provato no mi si sta smontando la torre amici grazie a che ti grazie grazie ma non dovevi cioè io stavo scherpando quando ho chiesto dove sono i miei soldi ragazzi no il mio regno cos'è sta roba perché no mi piacciono i palloncini perché va tutto molto piano e niente crolla ragazzi guardate la mia torre fai schifo sei veramente illegale guardate quel piano forte allora numero uno che allora te li dico in ordine siamo da sinistra verso destra squisi rampiona airu e io io comunque ti sento laggare un sacco no lascia rampiona stai nemmocando tu comunque a che ti dice poco più di inferno per l'impegno ha vinto solo un round per ora giusto grazie che ti grazie grazie fatemi sapere se la live vabbè se ci sono problemi purtroppo oggi internet fare biz cosa ho visto airu dado l'uomo del piano grazie per aver risposto figurati l'uomo del piacametro del piacametro si della cartina tornasola della cartina tornasola ai adesso provo a fare come la rampiona e fare così se questa cosa potrà mai funzionare nella vita questa canta nel suo mondo è così patatina quindi ogni tanto domanda chi è di pure io piango no qui però ha finito di accoppiarsi torna a estinguersi dai no è vero è un animale domanda immaginate una giraffa fuso in un ipopotamo cosa che ansia che ansia atroce chi è che l'ha scritto G-g-g-g-g-guder... Guder. Guter-ta-kutentak. Chiamiamolo Guder e io non ho capito la domanda. Puoi ripetere. Non so... Non so... Riformula, per favore. Magari stava ancora finendo di fare la domanda. Airo, cosa ho visto con la coda dell'occhio, Airo? Cosa ho visto, Airo? Airo sta facendo un panino e non sta facendo un altro... No, basta, non ce ne sanno più. Airo, cosa stai facendo? No! Oppure chiamatemi cugino di Airo. Ah, sei cugino di Airo, tu è vero? Oddio, ciao, cugino di Airo. Ciao, cugino di Airo. Ma Airo ha cugini? Scusate, la cosa mi sconvolge alquanto. No, stai fermo! Scusi! Che cosa hai scusato? Stai fermo! Ma mettilo lì a destra, squisi! C'è una piattaforma naturale! Come a destra? Non a destra! A sinistra! Dove a destra? Ma sei scemo? Mi hai fatto perdere! Cosa fa? C'era una barra in orizzontale. Eh, ma dove lo dovevi? Se lo appoggiavo sopra cadeva. Ma secondo me no. Tristone! Yes! Lampiona culo! Tu sei un culo! Lampiona culo! Lampiona culo! Ragazzi, chi chiama la lampiona così? Vincoli per favore! Sì, va bene! Airo ha detto, ma come Airo è a cugini? E Akhetti invece mi dissa e dice, non ascoltare consigli di dato, stai facendo bene. Eh, grazie Akhetti, grazie. Adesso mette in dubbio le mie doti. Intanto chi è secondo? Ecco. Ad esempio, adesso ho fatto una cagata. Ecco, vedi. No, non dai! Vabbè, vabbè. Mi accontento. No, non mi accontento più. Perché? Non mi piace. Dai, c'è che bello. Non mi piace questo gioco. C'è che vara? Cos'è che hai detto? Nooo! Tanto salutiamo Marx che comunque sia ci segue sempre. Anche C'è che vara, un grosso, il nostro grande. Anche C'è che vara. Lenin, anche. E fa tutto un passaparola, comunque sia. Solo che non lo donano per non finanziare il capitalismo. Esatto. Loro in realtà neanche ci guardano, però ci seguono con il cuore e con il pensiero. Aiuto! Amici! Cosa sto guardando, amici? Airo? Cosa? Con la coda dell'occhio sto vedendo un sacco di roba brutta che sta accadendo. Airo ha scritto no, no. E non posso leggere cosa ha scritto Airo. E niente. Nooo! Niente acchetti, grazie per poi il tuo euro. Forse non troppo ben investito, però ci piace. No, è sempre ben investito, se lo danno a nooo! Prendi quel cuore, tu! Scusa, Run con che? Con chi torre? Lampiona? 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 Ma non ti vergogni neanche un briciolo? Ma veramente vergognati tantissimo. Ma quasi 27 minuti per vincere, hai capito, Alice? Achetti, vincere è una parola grossa, l'importante è partecipare. Vincere! E vinceremo! Lampiona? Lampiona, magari anche no. Ecco dai, chi sta con Marx? Magari anche no, stiamo parlando tanto bene di Marx, ora ci metti in mezzo la merda, io non so. Poi perdiamo un sacco di follower del proletariato. Il proletariato dopo ce l'ha con... non riesco a dirlo neanche. Ecco. Il proletariato. Comunque, cioè, stiamo giocando ad armi impari perché... È vero, sei arrivata sul podio. È vero. Quasi. Grazie Ketty. Spoiler di Supernatural di domani, piango. Ma che schifo. Eh, ma... Tu devi evitare gli spoiler. Grazie del consiglio, Alice. Scusami. Eh, Alice, sono caduto e mi sono fatto male. Eh, ma tu non devi cadere. Eh, ma scusami. Ho sbaglio. Ci vedo, stop, devi andare in merda. Ma tu devi evitare gli spoiler. Eh, mi sembra anche abbastanza... No, no, ma hai ragione, assolutamente. Non... Non fa una piega. Scusami. Non sto succedendo. Cos'hai da fidere? Ma stai chiedi, Minnie! No, no, così veloce, no! Ho il cervello che non va così veloce. Ho il cervello che non va così veloce. Io ho il cervello che non va e basta. Ho il cervello che non va così veloce. Ho riso un po'. Ma uno come fa? Ho riso un po'. Moderazione, ci vuole solo moderazione. Ho riso un po', va bene. Esatto! Bisogna ridere un po' della vita, no? No! No! Il mio piano! Il mio piano! E niente. Il tuo piano? Forte? Il tuo piano forte? Sì, il mio piano... Era un piano forte. Era un piano forte. Era un piano forte. Ah, 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 ah. Ragazzi, posso fare un like? Ho vinto! Chi è che fa la voce di Dobby? Cosa? Chi è che fa la voce di Dobby? Che cosa ti riferisca alla lampiona, sai? Ma forse sì. Perché cosa ho detto? Niente. E parli. Dai! Quanto cattiva! No! È perché dice che ha la voce di... Che tu hai la voce di Dobby. Dobby è un elfo domestico, signora. Sì, signora. Cosa? È quello di... Eh, The Lady. Signora c'è un uomo. Signora c'è un uomo per me! Signora c'è un uomo per me! Signora c'è un uomo per me! Eh sì. Un uomo! Io non ci speravo. Ma dai chi è che non conosce The Lady? Ah bu che ne so. E questo dove lo piazzo? Eh... Non ti piazzo qui. Eh. Che uomo per lei! Che uomo di lei! Chi è? Un uomo! Scusatemi, fai detto che è troppo dato quanto fa il Diugongo! Il Diugongo, attenzione! Sì, scusate. Eh... Era un incrocio tra Dugongo e Diugongo. Iro scrive il signore non l'abbandona mai! Che battuta del cazzo! Perché fa così ridere! Eh niente! Eh niente! Chi troppo vuole non la stringe! Chi troppo vuole IroString! Così? E se io lo piazzo qui? Ci provo! Ci provo! Eh! E questo? Aero ma... Gli hai detto a... Ah? No, io stavo guardando... Si è bloccato! Il religioso silenzio! Gli hai detto a tuo cugino della nostra relazione Aero! Vaffanculo Dado! E niente! Ormai l'ha scoperto così! Mi sa che è la Vincas! Che è la Vincas? Cosa? No, no, no! Adesso mi agito, no! La Whisper! No, tanto ha vinto... Squeezie! Cazzo! Squeezie avevi vinto! Non mi dovevate guardare! Non mi dovevate nominare! Siamo in live, Squeezie! Non mi dovevate guardare! No, chiudetevi gli occhi! Qualcosa mi dice che ha vinto! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Ecco, Rana! Adesso cosa si prova, eh? Sono i troppi squat che ho fatto! I troppi squat! E io non ho una giustificazione per fare pena, però! Non è giusto! Ahiru, queste parole! Ne ho fatti 150 oggi, o? Ho bisogno di un fazzoletto! Oh, ecco un fazzoletto! No, 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 no! Devo soffiarmi il naso! Ah, che stavolta però è stata colpa della lampiona! No, ho sbagliato! Cosa ho fatto? Hai destabilizzato la Whisper! Cos'è che ho detto? Vabbè, ma... No! 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 Devo soffiarmi il naso! Solo che delle volte tengo premuto la tastiera pensando che sia la mano che mi soffia il naso! Cosa? Cosa?! Credo di non aver capito! Ma sì che hai capito, dai! Cioè, praticamente... Sì che hai capito, dai! Ma sì, ho capito! Sono Cassandra che sono preveggente! 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 Cosa? Ma sì, se capisco le cose ancora prima di capirle! Cosa? Cosa? Come? Cosa, cosa? Non mi avete capito, no? No! Io no, io con il vento non ce la posso fare! Già l'odio di mio! Aiuto! Ma guarda, guarda! C'è questo pezzo leggermente inclinato, per cui io non potrò mai piazzare alcun pezzo sopra! Eh, Squeezie, guarda la mia torre! E beh, quindi stavi dicendo, Squeezie? Cosa stavo dicendo? La tua mano che teneva la torse! È presente quando stai facendo due cose diverse con le due mani? Sì! Solo che, a certo punto, inverti i compiti di una e dell'altra! Quindi, mentre soffiavo, tenevo premuto il... E infatti, come sta succedendo adesso? Insomma... Non riesco a parlare e a giocare! Insomma, hai capito, no? Sì, l'ho capito! Sterbetto del belino! Bravissimo, Airo! Dai, Airo! Buonissimo, Airo! Non fatelo! Per favore! Dai! Che palle! La vita fa schifo! Su Tricky Towers! Io mi diverto un sacco su Tricky! Eh, grazie al cazzo vinci! Cioè, non so! È l'unico gioco dove vincono, rompete, sai! Che poi adesso state vincendo voi! Ma cosa stai dicendo? La gufa! Questa testa di cazzo! Guarda! E lo metto! E lo metto! E lo metto! Qualcuno fermi questa agonia! Sì, ecco, censuratemi così a Chiettino gli piangono gli occhi! No, guarda! Siamo pari! Dado! E' normale che gli occhi piangano, no? Cosa? Credo! Ragazzi, cosa avete assunto stasera? No, silenzio! 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 Silenzio degli innocenti! Eh sì! Cos'era questo? Ha scorreggiato? No! Ho infilato il mattoncino! Io quei rumori di soddisfazione li faccio dopo aver scorrecciato! Io lo faccio quando infilo i mattoncini giusti! No, i mattoni! Pensavo io avessi infilato qualcosa nel naso! Cosa? Cosa? Lampiona! Voi credete che io mi droghi? Sì! Ok! Questa droga sono io! Cosa? Cosa cosa? Cosa cosa? Chi ha detto cosa? Airo! Cosa ho visto Airo? Cosa? Airo cosa sto guardando Airo? Stai lì! Perché fai queste cose del cazzo? Che non è una falla! Il fallo non è una falla! Il fallo non è una falla! Non più è una cosa... Mi devi dire qualcosa! È una falla artesiana! Cosa? 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 Niente! Lampiona è andata! Non ce la fa! Non è davvero! Dite voi cose strane! Uh! Lampiona cosa ho visto però te shitti malissimo! Lampiona era fuori e ti sei infilata perfettamente! Lampiona cosa sto vedendo! Eh! Cosa vuoi! Ragazzi la lampionosa è shit! È la seconda! Sì! Cetta! 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 No! Vabbè! No! Cosa ho fatto? Potrei essere seconda! Dai! Almeno il terzo posto me lo merito! Ah sì! Poi c'è Dado! Chi è? Quello lì che ha fatto tre! Parelli! Ah! Che palle! Che palle! Un secondo posto! Ragazzi un attimo vado a controllare il router di nuovo perché la lucina è rossa e sto bufferando! Torno subito! Come si fa a mettere in pausa? Non esiste la pausa! Sì! Perché stiamo giocando online! Al posto della torre di Squeezie mettete la gifia di una cipolla che viene tagliata almeno bianco per un motivo! Che so! Che ti prego perdonavi! Pormi video da loca! Squeezie è chiaramente in overdose da te in fre! È buono qui! È buono qui! Non so, vorrei dire ma andando si sta formando anche una torre interessante! Io non la posso guardare se no mi sconcentro e perdo tutto! In realtà perde lo stesso! Cioè ha perso già una vita airo! Ah no! Ok! Da persa anche Dado! E niente Dado sta perdendo clamorosamente! Amici! Hai una vita! E poi ti rubano la bici! Ok! Ho un mico viene metano qua! Facile dice così lampione eh! Ma in realtà non sto vincendo io eh! Sì sì! Ma in generale! Ma in generale te ne sembra ci sono! Non rompere il bellino sai! Non rompo il bellino tranquillo! Il bellino! Cosa di io? E anche ridere! Ma che è? Che è? Segui quest'altro che fa il maiale! Ragazzi le mie basi! Guardate le mie basi ragazzi! Nooooo! No vabbè! Adesso regia! Adesso regia! No! Non fare il maze della situazione! Dai! Non regiare! No mi sto stortando! Marco regiava su pentorillo! Cos'è sta roba? Cos'è cos'è? Non riesco a controllare! Ma le lampioni a cheat ragazzi! Non ne è vero! Ho vinto! Con quale torre ho vinto! Ma io stavo andando così bene! E invece? Che male! Vi possono usare la virtù! Vi possono usare la virtù! Come? Cosa intendi? Non ho capito Guter! Guter! Io ho qualcosa di buono da fartene usare! Tipo polverina! Magica! E ti calma un po' in errore! Sembra talco ma non è! Serve a darti l'allegria! Lampiona! Senti quest'altra! Lampiona! Vogliamo finirla! Decibel mai conosciuti dalla storia dell'umanità! No non sono su Zelda! Non andare in rage! Su Zelda a me mi considero che è un bel gioco! Questo è un gioco di merda! Ma stai zitto stai! Beh potrei neanche non venire! No in realtà dovevi per forza! Strimavi tu Alice! Sì! Cosa credi? Sembra talco ma non è! Serve a darti l'allegria! Lampiona! Niente non la finirà mai più con questa cosa! No! Adesso ce l'ho in testa! Non me la tolgo più! Senti quest'altro! Io comunque chiedo scusa per i comportamenti a dir poco aberranti di Lampiona! Chi è che spasa la minchia allora? Ma senti questa! Io e tutti i micorgi ci dissociamo completamente dai comportamenti di Lampiona detta Ilaria! Allora! Questo ti dice! Oh mio dio si chiama Ilaria? Lampiona detta Ilaria! Non lo sapevi scusi! Ma sì che lo sapevo raro! Ormai è il meo! Infatti è anche tra gli amici cazzo! Cioè non so! Ah è vero! Non so! Ai 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 ai! Eh? Scusate sono stanca! A che ti chiede? Intendi la polvere di tè? Certo! Oh mio dio! Certo quella ricca di... Il tè verde! Il tè verde ha foglia larga e pallata! Lampiona! Lampiona ha scassato le palle! Cosa ho fatto? Adesso non l'ho fatto niente! No! Non giochi più! Non giochi più Lampiona! No! Il vento! Possiamo togliere il vento! Possiamo togliere la lampiona a gioco per favore! Ma dai! E basta il vento! Segneremo! Pazzo account in steam glielo tolgono dai! Fatta? No! Ho sbagliato! No! Che che mi insegna poi l'arte? L'arte? L'arte del tricka... del trickit... Poi la metti da parte! Non riesco neanche a far la battuta! Maremma da Adon! L'altre? L'altre! Non so parlare amici! Non so parlare! Non so parlare! No! 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 Perché? La vita fa schifo! No! Vabbè! Vabbè! Avete rimandato? Ok! Easy! 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 Con squeezy! Dica! Ma guarda sto stronzo! Con sta bolla! Mi chiodo! Che cos'era? Cosa? Vabbè! È giustata! Non è vero! Non dire! Vabbè! Come se fosse ovvio! Eh? Cosa? Le cose! Cosa? Cosa? Io sono l'unica a sbagliare stasera! E vabbè al culo! Stasera... Stasera non lo so! Io stasera sono veramente fattissima! Sembra un po' un venerdì sera! Non so perché! Il venerdì sera! Sì! In realtà odio! Il lunedì! Ma non è il lunedì oggi! Cosa? No! Era una citazione a Garfield! Garfield del gatto? No! Garfield il cane! Andrew Garfield! Sicuramente ha detto una frase celebre! Non mi piace il lunedì! Ragazzi è finita! Ragazzi è finita! Ragazzi è finita! Non riesco più a mettere pezzi! È finita! Dammi il tempo che ti raggiungo! Ti supero! Ma! Non ho più! Ma chi è la tappa? Lasciamelo stare! Lasciamelo stare! Lasciamelo stare! È mio? Sono sempre io! Sono orgogliosa! Sì! No! No! Era bellissima la mia torre! Era bellissima! Ma perché c'è il vento? Ma perché il vento sminchia tutto? È colpa della lampiona sempre! È colpa del riscaldamento climatico! Cambiamento climatico! Sì 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 sì! Cambiamento! Sì! Cambiamento! Sì! No! Chi è stato? Lampionaculo! Lampionaculo! Sono seconda! Non spaccare la minchia! E io sono terza! Dai squisi lo scarico e ti alleni! Dai squisi lo scarico e ti alleni! Ma in fondo mi siama lo stesso! Grazie Ayr! No! Cazzo no! Se avessi vinto avrei vinto il torneo! Guder dice vi accrezzo il carnevale! Ok! Ma non è veramente il cugino di Ayr! Sì sì! Dai squisi lo scarico e ti alleno davvero! Sì hachetti dai! Dai hachetti! Fai allenamento tipo gli scalini! Gli scalini! Fai gli scalini! Cosa? Cosa c'entra? È l'allenamento intensivo! Sembra tal con maionette! Per giocare altri ki-towers! Lampiona! Non l'ho urlato! Non rompere eh! Cos'è che hai urlato? Niente! Sto catticchiando pollon e questi mi rompono! Sto catticchiando pollon? Sì è pollon! Bravo! È pollon! Pollo pollon! Non combina guai! Cosa? Un po' felice tu stai! La beniamina di tutti gli dei! Sei tuo nonno pollo! Sei tuo nonno! Sentila proprio la voce anche! Io sono pollon mancata! Lampiona dice sei tuo nonno! No! Hai detto sei tuo nonno! Mi confermeranno dalla chat! Ho detto! Ho detto oh nonno no! Pollo! Sei tuo nonno! Altra cosa mi metto i rocchi a picchiare prosciutti in un congelatore! Cosa? Eh allora metto della squeeze! Non posso nemmeno! I prosciutti nel congelatore! Se questo lo metto qui cade! Squeeze non farlo! E invece! È bello che lo stavo anche chiedendo! Squeeze una domanda! Perché hai pezzi con le lucine di Natale? Perché ormai it's Christmas time! Scusi hai tutto lo spazio del mondo a sinistro! Eh no! Ma che culo lampiona! No ha vinto la lampiona! Ragazzi ragazzi la squeeze sale! Mamma seconda! Brava squeeze! Grazie! Grazie che gioia! Super major Christmas day holiday! No achetti! Io continuerò in perterrito! Lampiona! No? No! Volete fare come l'altra volta? No! No è presto! Dunque! Sì! È vero che sembrava passato di più! Cosa? Il tempo! Perché abbiamo detto così tanto il cacante che è diventata pesante anche per noi! Ah no! Andate riduttura! Io sono Eros! Cioè è proprio bella questa cosa che stiamo parlando tutti di un qualcosa poi arriva qualcuno e dice cosa? Aiuto aiuto aiuto! Cioè! Nessuno riesce a connettersi! Lampiona! L'ho capito! Ehi lampiona! Squeezie! Come ti chiami? Ah come vuoi che mi chiami? Ah stronzo! Io non mi ricordavo! Dignelo che è stronzo sto stronzo! Eh cosa? Così? Sto stronzo sto stronzo è detto tutto impastata la cosa! Che ritorno! Che ritorno! Perché ho lagato! Sì e quindi sarei sentito uno strosto stronzo! No! Ho lagato davvero! Piango! Non hai lagato! No! Ho sbagliato! No! Eh niente! Allora! Aspetta mi devo concentrare! Concentrati l'area! Concentrati! Ok! Ok! No! No! Non ho fatto questa cosa! Non è vero! Hai fatto questa cosa! No! Non ho fatto questa cosa! No! Non l'hai fatta! Addirittura! Eh! Eh! Sotto questo sole! Io vado con calma ragazzi! Io vado con calma ragazzi! Dado sei vinto perché hai messo quella cosa così tipica! Lampiona! 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 Non puoi permetterti di dirmi nulla! No! No! Squeezie! Non lo farei! Non dargli consigli sbagliati! E se io lo mettessi qui sotto? No! No! A sinistra in verticale! Non mi dovete vedere! Non mi dovete guardare! Non mi dovete guardare! No! Ok! Squeezie! Squeezie! Siamo in uno streaming! Stiamo giocando in quattro! Se rimane l'ultima ti guardiamo! Non sono ultima! Ho un problema! È vero! Ho un problema! Ho dei problemi con le aspettative delle persone! Addirittura! Stasera ho problemi appunto e basta! Diciamocelo! Eeeeee! Questo lo metto bene! È normale o è speciale? È normale sembra! Non c'è la pioggia! Ma cosa c'entra questo con la pioggia? Di solito quando c'è la pioggia non è normale! Ragazzi sento degli ultrasuoni in cuffia! Cosa c'entra? Ho sentito un fischio tremendo! Cos'era? Boh! Nooo! Cosa? Sporca! Ma ora è sparito! E che fischio? Boh! Ho sentito fischio! Era tipo un ultrasuono acustico! Molto! Questo! Ma ragazzi non so cosa stia succedendo! Non ne ho idea! Neanche noi! Io sul viso squisi cadere un sacco di roba! Eh! Perché stavo guardando cose! Cazzo! Marca! Parca! Stai guardando il cazzo? Nous! 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 Non c'è perché c'è andata troppo vicina al telefono! Ma non fatelo! Ho vinto! Ah no! Ho perso! Ecco! Sono terza! Ah! Ho vinto! Eh ho! È forza dell'abitudine! È forza dell'abitudine! È forza dell'abitudine! Ai luce mori per favore! No! Ai luce mori per favore! Non far vincere con lo stronzetto di... Hai un merda! Hai un merda! E com'è possibile sta cosa? Prima che vince Airo stasera! Un applauso! Bravo Airo! Se non avrà ben ridato che hai imprecaduto il trasuoni! Cosa? 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 Lampiona cosa hai capito? Me lo spieghi? No non ho capito quello che hai detto! Ma perché dici cosa? Incazzatissima! Ho sentito Lampiona ora! Nessuno ha detto Lampiona! Mmm... Ma nessuno ha aspettative su di te Squeezy vogliamo... Ah ma stiamo giocando! Aspetta! No ho già perso un petto! Stiamo giocando di Squeezy, hai visto? Mi distraggo! In quello di prima non ci poteva essere il vento perché era la... Era la sfida, non era questa qua! C'è solo qui il vento eh! Perché ci deve essere per forza il vento! Io dico no al vento! Infatti! Finiamo una petizione! Ragazzi! No al vento! Possiamo una pupola! Esatto! Votatemi! Adesso in fondo un partito! Partito comunista dei... No aspetta! No no! Qualcosa è diverso! Il partito marxista! Ah! Tanto diverso! Muratori! Che poi è proprio un'ipocrisia assurda! Partito marxista dei muratori! Facciamo! Ah ok! Mi piace! No ho sbagliato! Proletariato unito! Contro il vento! Amas era vencito! E suave suavecito! Cosa? Alexa! Alexa! Ci stava tantissimo! Ragazzi io non sto capendo cosa fare! Era bellissimo! No no no! Ragazzi io non sto capendo cosa fare! Eppure Aero ti è in basso di me! Mi piace sentire un dado mi impazzisce! Vaffanculo! Ok! No! No! La vita! Fa schifo! Solo se ci vieni con me! Muahaha! Cosa? Addirittura! No! Non cadere! Ti prego! No! Faccio così! E ora ricominciamo! Con questa torre solitissima! Ma lampiona! Come fate a dire che la lampiona non cheat ragazzi? Ah! Stay alive! Stay alive! Ragazzi! Eh! Con che torre la lamp... Lampiona? Io sto usando il vento! Ecco! A me cade tutto! Anche a me è caduto tutto! A lei invece... Guarda! Nooo! 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 Passiamo proprio delle merdine! Sei solo indietro di uno Dado! Non ti lamentare! Lampiona! Lampiona! Papi! Squeezie? Non guardatemi! Non guardatemi! Lo senti laggare anche tu o solo io? Si ogni tanto lagga! Eh ma ve l'ho detto oggi l'interattura di merda infatti mi gira il cazzo che anche la live andrà di merda! Eh vabbè staı! In fatto eh ho perso un botto di frame... Ehhh... Qui niet Customsate non ci entrerà mai mentre mettiamo qui! Perché? Per quale motivo... Ed è caduto? Ha senso! Bipirin piuuuu! Pipiri piisi Ma si dai proviamo a mettere qui... Pipiri piiii pi penpiri piipiri pipi pi pi piiri pi riepi pi 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 riepi pi pi riepi pi 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 riepi pi 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 riepi pi pi riep pi riepi pi pi mi che vuoi rivedermi l' Frallia Dioia adesso adesso la penna la penna ne fece più la penna al posto del cavallo cosa hai detto la penna e mi è venuto in mente no non lo legge la fregna una battiti vada cos'era questo perché la vita fa così schifo piccola sfida non per una tattico e vabbè lampione ho vinto la tazza lasciasse la tazza che parla nella spazza ti lasciassero le 30 mila istanze di cromo magari queste parole chat no quindi un attimo che ti time out per un secondo ma qual è il problema a quella parola il problema sul serio ma tanto non me l'ho fatta ammattare quindi non c'è problema sto anche cos'è sta roba no amici sapevate no che dovevo andare a torino per fare per parlare col prof per la tesi no è il posto ieri sera mi ha scritto e dicendomi signorina io domani non ci sono due lauree ma cazzo ma lo scopri adesso che hai due lauree ragazzi io rinuncio con questo gioco ho posato la bellezza di 5 mattoncini e quindi niente non vado a torino domani non vado a torino no piando sono triste si però vabbè penso per uno secondo ma come ho fatto a vincere così vabbè è così ragazzi credo di essere crashato un pochino ah si problema di connessione che gioia infatti non ci sei qua facciamo un torneo piccolo e mancano 5 minuti si si allora usciamo da questo yes dai stavo vincendo aspetta però che devo chiudere il gioco se no non mi fa entrare esci conferma magari riesco ad usare il joystick chi è che fa la partita dai falla io un attimo fai quella piccola mamma manca 5 minuti tranquillo Nemi tranquillo a domani Nemi grazie per essere passata a domani Nemi tanto questa sera è una live un po' così ma anche perché buffero mi girano i cojones chi è che sta sbattendo il pad per terra io sbattevo il piede ok questo è invito forza invita gli amici un attimo no ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato cosa hai fatto? mi limita ho fatto un torneo super mi limita non ho ancora animato amici ma come vabbè un attimo è accetto o acchetto acchetto accetto allora vado sì amici sono fiero di informarvi che ho fatto una loffa una? una loffa una loffa cambio il personaggio non cambiate anche voi ma dai il mio è sempre lo stesso l'avete invitato Ayrou il mio è sempre lo stesso sei tu che mi coppi che pizza Ayrou Ayrou bravo bravo Ayrou non ce la facciamo ma torna un super? guarda un po' come si diverte cosa? no vabbè dicevo torna un super sforiamo di mezz'ora quindi no no ma lo blocchiamo quando è ora dai le nuove posizioni sono squisidado rampiona e Ayrou scusate per questo cambo eh si no cazzo voglio vincere cazzo voglio il diugongo nella vita vera il diugongo il diugongo il diugongo il diugongo il diugongo no il diugongo il diugongo comunque se l'interessa che è che è cosa è un kigurumi da duugongo non ho capito ma mi è finito un kigurumi da duugongo che cos'è ma perché non mi si infilano i pezzi è tipo un pigiamone fatto a full body fico ma io non ci sto ci navigo però io ce l'ho no basta io rinuncio ragazzi non so cosa posso fare rinunci la satana tutte le sue ma guarda volevo provarlo un pochino magari funziona meglio non so sto scherzando amici della chat e invece il mio unico dio è aero e invece ti rubano la pece cosa aero aero devi sapere quando è il momento di smetterla e questo è il momento di smetterla aero aero ah twitch ha problemi beh no ma è anche la mia connessione con problemi stasera quindi uombo combo uombo 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 suakamole eh lampiona chi sarà il terzo lampiona basta e fa la sborona hai vinto dai chi vuoi che sia ma non spaccare la la sega stavolta mi sono ma chi ha fatto ma squeezy che c'è io l'ho detto eh se l'ho detto sono giustificata no non funziona proprio così connessione connessione poi ti facciaone esattamente quello che sta succedendo è il calmo che l'avete preso per il culo Marco questo dai facciamo tipo l'ultima minigara e poi chi vince questa ha vinto tutto chi vince questa vince tutto no no col ca no col ca no 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 però c'è il vento se vince se vince squeezy ma no ma è impossibile c'è il vento no ma c'è il vento ho capito che c'è il vento eh quando c'è il vento io non lo so fare neanche io tranquillo divento rinco strinco cos'è che diventi scusa rinco strinco stronzo stronzo rinco stronzo è il cavallo di brann non sono capace di run di brann di run di brann di brann di brann più no? di brann andiamo avanti così tutta la sera ragazzi di l'aria? no di brann di run quanto mi fa ridere la cosa ah chat qualcuno di voi guarda agent of shield ma che schifo io ci ho provato lo so lo so tranquillo ragazzi 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 che fa schifo quindi te lo merito ma lampione io ci ho provato però avevo una sceneggiatura talmente di merda ma non è vero ma sono solo le prime dieci puntate che sono lente cazzo cioè nel senso ma è una serie tv colossale non è che ti puoi immaginare una subito presa wow ragazzi cosa dovrei fare? me l'ho spiegata è meglio The Punisher vabbè grazie al K ma non lo so grazie al K grazie al K grazie al K grazie a te grazie a te che come ricorda il buon Diego i cani sono particolari spedera The Punisher è nato in un mondo marvel già avviato agent of shield no è nato all'inizio per questo fa cacare ma non è vero brava squisi vatti giù non è vero non è vero perché queste cose dai si che hanno forze vabbè ingloba tutto vabbè no ha fatto un sacco di danni no vedi anche a che ti dice che è noiosa quella serie ma a che ti stai zitto però no allora non è che sia noiosa è fatta male cioè ha delle ma perché hanno potuto ma non vuol dire se fa cacare fa cacare lampione anche io ho poco budget infatti faccio cacare infatti ti ho mandato il ghiaccio così non rompe così vuoi sentire proprio best in live così impari che figata è nata della vita sul mio ghiaccio è nata della vita sul mio ghiaccio ed è sei anche suicidata si è suicidata la vita si la vita comunque non era questo chi l'ha guardato può dire a due piedi che Gemma Simmons è un bel personaggio no rampione è diverso non ci sono dei personaggi in quella serie ma stai zitto stai zitto tu stai zitto a che te Iron Fist sul serio Iron Fist è la cosa che fa più schifo dell'intero mondo Netflix cioè la serie con meno senso più recitata male più scritta male della vita ma non è vero Dado hai vinto tu ho vinto ho vinto hai vinto amici hai vinto no no basta ora chiudo Tricky chiudiamo Tricky no se sei un uomo non lo fai l'ho chiuso e invece ma tanto sappiamo che è una donna come? dai come ti devi tirare alto scappare era Iroquen io pieno oh amici amici cari amici bellissimi mamma mia mi ha fatto mi ha tizzata amici sono una persona triste a che ti che gusti di merda però Iron Fist è veramente la feccia ma non è vero ma povero Iron Fist ma cosa povero Iron Fist ma hai rendi conto di come è recitato con i piedi io io all'elementare facevo meglio ah vedi amici prima di laggare di nuovo io vi saluto ci vi salutiamo vi salutiamo grazie a Nemi per l'are sub grazie a Dacchetti per l'adorazione assolutamente grazie a tutti che ci hanno seguito vi ricordo che noi streamiamo tutte le sere dalle 22 no ho ruttato dalle 22 alle 23 e per sapere a cosa giocheremo in anticipo questo è il nostro canale instagram mi raccomando seguiteci seguiteci qui è il nostro canale telegram invece per quando andiamo in live ve lo faccio sapere lì c'è anche il canale youtube in caso voleste vedervi le paste in un luogo più consono ai video in un luogo più consono più consono ai video vi saluto lampione culo e niente ma tu sei un culo no voi siete dei culo lo so anche aero culo visto che non può rispondere qui è bello insultarlo e sempre luca merda ciao luca merda sempre ciao 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 ciao